Bentornati sul canale giornalismo del cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Isola dei famosi, più litigano, più guadagnano. Spuntano le cifre bonus per le discussioni animate nel reality show, tutti i dettagli al riguardo Guadagnoletigio.Reality Show molto seguito di Canale 5, l'Isola dei famosi dà sempre molto da parlare agli utenti dei social network Il programma di intrattenimento, effettivamente, riesce frequentemente a sorprendere i telespettatori, ma anche i protagonisti Difatti, in queste ore, è spuntato un retroscena veramente inaspettato sul cachet che spetta ai naufraghi della trasmissione condotta per la seconda volta consecutiva dalla bellissima Ilari Blasi Di che cosa si tratta? Scopriamolo insieme.Isola dei famosi, il retroscena sulle cifre bonus Ogni appuntamento della sedicesima edizione del reality show di Canale 5 è veramente atteso da un vasto pubblico Difatti, i naufraghi di quest'anno stanno catturando, puntata dopo puntata, l'attenzione dei telespettatori In queste ore, ad aver lasciato senza parole gli utenti del web, che commenta costantemente ciò che accade all'interno del programma di Ilari Blasi, è l'apparizione di un retroscena circa alcune cifre bonus guadagnate dai concorrenti in circostanza particolare Che cosa sta succedendo? Tutti i dettagli al riguardo.Ilari Blasi Isola dei famosi 2022 Isola, più litigano, più guadagnano. Cachet bonus per le liti In queste ore, gli utenti del web stanno impazzendo a causa di una notizia trapelata che riguarda il cachet dei concorrenti del noto programma di Mediaset Difatti, i protagonisti non guadagnerebbero affatto poco.A tal proposito, si è venuto a sapere che i personaggi conosciuti che prendono parte al reality show in Honduras riceverebbero delle cifre bonus grazie alle discussioni animate Ma che cosa vuol dire? Scopriamolo insieme.Isola dei famosi liti tra Floriana Secondi e Nicolas Vaporidis Floriana Secondi e Nicolas Vaporidis ha l'isola dei famosi 2022, Donna Press It.Da ciò che si apprende, in queste ore, è trapelata una notizia che ha a che fare con gli stipendi che i naufraghi percepiscono Secondo una voce, gli isolani riceverebbero delle cifre extra se creano delle liti A tenere banco sul social network è proprio questo rumor che sta facendo impazzire tutti Effettivamente, secondo il parere di numerosi fruitori delle reti sociali e telespettatori dei programmi di Canale 5, la creazione di dinamiche, come nascita di storie d'amore o realizzazione di litigi, farebbe arricchire i personaggi noti Ma quindi è vero che più i concorrenti litigano e più guadagnano? Lite sull'isola dei famosi.Certamente, mai nessuno ha confermato o smentito questa supposizione che sta avendola meglio su social media più famosi Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao